Ci siamo ancora una volta, la società sulla bocca di tutti ha di nuovo stupito i mercati. Stiamo ovviamente parlando di Nvidia che ieri sera ha riportato i risultati trimestrali e nel momento in cui stiamo registrando sta segnando un più 13%. Da inizio anno siamo attorno al più 50% contro il più 5% dell'SP500. La trimestrale di ieri era davvero fondamentale per i mercati ragazzi, aveva tutti gli occhi puntati addosso per un motivo molto semplice. Abbiamo visto negli scorsi video come buona parte degli incredibili guadagni sui mercati negli ultimi due anni siano riconducibili a pochi titoli e quasi tutti facenti parte del settore tecnologico. Facebook, Microsoft, Alphabet, Amazon, giusto per citarne alcuni, e soprattutto Nvidia. Cos'è che hanno in comune buona parte delle aziende tech? Un mega trend gigantesco, ovvero quello dell'intelligenza artificiale. Un po' come era stato con internet negli anni 2000, gli investitori vedono enormi potenzialità in questo settore. Nvidia ieri ha fornito una dimostrazione incredibile. In questo video vedremo per filo e per segno i numeri che ha registrato e le prospettive dei prossimi mesi. Come sta evolvendo l'azienda nel corso del tempo e cosa si aspetta per i periodi successivi. Perché si sa, in fondo, è soprattutto questo che interessa i mercati. Prima di partire però vi ricordiamo che è in atto una promozione che vi permette di ricevere il nostro ebook sulla valutazione aziendale in modo totalmente gratuito. Come fare? È sufficiente iscriversi a Scalable Capital con il nostro link in descrizione e inoltrare la mail di conferma della registrazione all'indirizzo che vi indichiamo sempre in descrizione. In poco tempo una figura del team di ingegneri in borsa vi invierà l'ebook. Si tratta di un modo per supportare il nostro lavoro di divulgazione finanziaria e ve ne saremo sicuramente molto grati. Dunque, torniamo alla società leader nel settore delle GPU. Per quanto riguarda l'ultimo trimestre dell'anno, NVIDIA ha riportato un EPS di 5,16 dollari ed entrate per 22 miliardi. Entrambi i valori sono superiori alle stime di circa il 10% e le stime, devo dire, non erano basse. Pensate ragazzi che rispetto a solo un anno fa le entrate sono aumentate del 265%, davvero fuori di testa. Ma ciò che stupisce ancora di più è l'aumento degli utili del 769%. A questo punto il mondo intero si chiederebbe, ma come cavolo hanno fatto? Bella risposta è economie di scala. Infatti i costi sono aumentati di appena il 25% rispetto all'anno precedente. Dei 22 miliardi di dollari di ricavi, poi, 18,4 sono riconducibili al segmento data center, con un aumento del 409% su base annua. Abbiamo poi circa 3 miliardi dovuti al gaming e una minima parte, circa 800 milioni, ad altri segmenti. Di fatto il CEO, Jensen Wang, ha affermato che la stragrande maggioranza delle entrate è dovuta alla vendita dei chip alla base delle intelligenze artificiali generative e che vengono installate nei server. In particolare si riferisce ai chip H100 della famiglia Opper. Oltre la metà di questi chip sono stati venduti a grandi fornitori di servizi cloud, come ad esempio Microsoft, Amazon con Amazon Web Service o Oracle. Pensate che solo Meta ha ordini per circa 300.000 GPU per l'intelligenza artificiale di NVIDIA entro la fine del 24. Oltre a loro, poi, è in forte crescita anche la domanda da parte dei settori finanziari, dell'assistenza sanitaria e dell'automotive. Il CEO stesso ha parlato di ordini multimiliardari. Per quanto riguarda invece l'intero anno, le entrate invece sono state di 60.9 miliardi di dollari, più che raddoppiate dall'anno precedente. Non è tutto qui, ci sono anche altre notizie che sono piaciute agli investitori. Intanto la domanda di questi chip continua ad essere molto superiore all'offerta e dunque NVIDIA può tenere prezzi alti e questo piace ai mercati. Secondo il CEO dell'azienda, attualmente ci troviamo ad un punto di svolta con un aumento della domanda globale legata all'intelligenza artificiale. Continua a stringere accordi con importanti partner, come Meta, che come abbiamo visto ha ordini piuttosto importanti, per circa 12 miliardi di dollari di fatturato. Ha annunciato poi una partnership con Google per rendere compatibili i data center di NVIDIA con i linguaggi di intelligenza artificiale di Alphabet. Infine sta ampliando la collaborazione con Amazon e il suo Amazon Web Services. Insomma, tre nomi che da soli rappresenteranno una grossa fetta di fatturato per NVIDIA. Poi la società potrebbe tornare ad operare pesantemente in Cina, con i suoi nuovi chip B100, una versione più evoluta degli attuali H100. Qui ragazzi dobbiamo fare un passo indietro. Ormai un anno fa il governo degli Stati Uniti aveva proibito ai principali produttori di chip statunitensi di esportare i loro prodotti più evoluti in Cina, perché temeva che venissero usati per scopi militari, e poi chiaramente non volevano rivelare i loro segreti industriali. Ecco, in questi mesi NVIDIA ha lavorato su questi chip, per renderli impossibili a detta loro da modificare o hackerare, e quindi potrebbero essere venduti in Cina senza problemi. Questi dettagli, che possono sembrare cavilli burocratici, interessano gli investitori, perché la Cina è un importante cliente, è un mercato enorme ed è pieno di imprese attive in ambito informatico, e dunque le vendite potrebbero risentirne positivamente. Infine, la società sta man mano aumentando sempre di più le spese in ricerca e sviluppo. Ad esempio, per continuare a cavalcare il trend dell'intelligenza artificiale, NVIDIA sta iniziando ad ampliare anche il suo segmento incentrato più sul software, fornendo servizi di cloud o deep learning. Ok, signori, ma oltre ad aver abbondantemente superato le aspettative degli analisti per il trimestre in corso, ha fornito anche una guidance per il prossimo trimestre particolarmente ottimistica. Mentre i mercati avevano stimato entrate di 22 miliardi nel corso del primo trimestre 24, NVIDIA ha già affermato che si aspetta entrate di 24 miliardi, con un margine del 76%, margine lordo. Già questi sono numeri che fanno girare la testa agli investitori e capita il motivo del più 13% di oggi. Le spese operative per l'intero 24 dovrebbero rimanere praticamente costanti, si parla di un leggero aumento attorno al 2%. Quindi ricavi alle stelle, costi più o meno costanti. Bellissimo per gli investitori. Certo, ricordiamo che sono sempre delle stime, dunque bisogna vedere un po' se saranno in grado di rispettarle, ma visti gli ultimi risultati fanno ben sperare. Proprio per questo alcune delle più grandi banche al mondo hanno alzato il loro target price, ad esempio JP Morgan ha alzato l'asticella da 650 a 850 dollari, mentre Bank of America è ancora più ottimistica, aumentando il suo obiettivo a 925 dollari. Ormai NVIDIA è diventata una vera e propria società market mover, e quindi i suoi movimenti influenzano l'intero mercato, almeno nel breve periodo. Pensate che ci è capitato di leggere su qualche testata addirittura titoli che ritraevano NVIDIA come la più grande nemica della Fed, visto che da sola è in grado di movimentare il mercato più di quanto riesca a fare oggi la Federal Reserve, rendendo così meno efficaci le sue manovre di politica economica. Partendo dalle aziende che operano nello stesso campo, TSMC, che produce processori anche per NVIDIA, oggi è a più 2%. La società europea SML, che produce macchinari per la realizzazione di chip, nel momento in cui stiamo registrando segna più 5%. Anche AMD e ARM segnano un più 5%, mentre Super Micro Computer segna più 12% addirittura. Per chi non la conoscesse, quest'ultima è una società produttrice di server di fascia alta e che nel 23 ha fatto particolarmente parlare di sé, visto che ha registrato più 230% ed a inizio anno un altro più 157%. Insomma, NVIDIA ha trascinato i mercati, ormai è la quarta società che vale di più al mondo e oggi l'SP guadagna l'1.2% sull'onda dell'ottimismo della trimestrale, toccando quasi dei nuovi massimi. Ok, ma NVIDIA a parte, diamo anche qualche aggiornamento lato macroeconomico. Poco fa abbiamo citato la Fed, ecco, mercoledì si è tenuta la consueta riunione dove i funzionari hanno espresso il loro sentiment sulla situazione di mercato. Ciò che è emerso ancora una volta è che non vogliono rischiare di tagliare i tassi troppo presto e dunque continuano a rinviare il fatidico momento tanto atteso dai mercati. Se vogliamo vedere il lato positivo, i funzionari si sentono abbastanza ottimisti ma semplicemente non vogliono illudere il mercato di tagli a breve termine. È comprensibile, l'inflazione non ha ancora raggiunto i livelli desiderati e il mercato del lavoro americano continua ad essere forte nonostante il rialzo dei tassi più alto negli ultimi 40 anni. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Speriamo che queste ricerche, queste analisi e queste notizie che vi abbiamo riportato sul tema Nvidia siano state apprezzate e vi abbiano dato una panoramica un po' completa per capire la giornata così euforica sui mercati di oggi. Vi ricordiamo ancora della promozione per avere il nostro ebook sull'analisi aziendale gratis e trovate le condizioni per farlo nella descrizione del video. E direi che noi ci vediamo alla prossima sempre qui su Ingeniero in Borsa. Ciao a tutti ragazzi!